Nemmeno il tempo di far girare la segnalazione che il problema dei roghi di sterpaglie al quartierino si è ripresentato. Proprio mentre il nostro servizio con la richiesta di aiuto da parte dei residenti veniva postato sui social network, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nuovamente per spegnere l'ennesimo focolaio acceso a ridosso delle abitazioni. Il problema c'è, l'abbiamo detto già un anno fa, ma finora nessuno si è mosso, sebbene esista una delibera comunale che impone la manutenzione dei terreni ai proprietari e sebbene esista una legge che permette ai comuni di intervenire e poi rivalersi sui proprietari. E intanto il quartierino brucia.